Le linee di produzione restano in funzione ed è scongiurata almeno sino al 31 gennaio 2023 la chiusura della linea Piombo. Si è concluso così in attesa di nuove interlocuzioni con il Governo nazionale sull'abbattimento dei costi dell'energia e di un progetto di rilancio e di riconversione dell'azienda, l'incontro svoltosi a Villa Devoto, convocato dal Presidente della Giunta regionale Cristian Solinas con le rappresentanze di Portovesma SRL, delle organizzazioni sindacali e di Confindustria. La Portovesma SRL ha confermato la disponibilità a sottoscrivere un accordo di cassa integrazione guadagni straordinaria che interesserà a rotazione 392 lavoratori e per una durata iniziale presumibile di 14 settimane decorrenti dal prossimo 25 ottobre. Le parti hanno concordato di incontrarsi entro il prossimo 12 dicembre per verificare l'andamento dei prezzi energetici e l'effettiva disponibilità di provvedimenti e strumenti in grado di rendere possibili le produzioni. La Regione, tramite l'assessorato del lavoro, ha confermato il massimo impegno per individuare tutti gli strumenti a salvaguardia dell'indotto e dei lavoratori indiretti interessati dallo stato di crisi anche con l'avvio di incontri specifici. Nessun lavoratore sarà lasciato indietro, ha detto il Presidente Cristian Solinas. La Regione continua a fare la propria parte per la salvaguardia dell'occupazione ma anche delle attività industriali in un polo di importanza strategica per l'economia del Sulcis e dell'intera Sardegna. Riunire tutte le parti intorno allo stesso tavolo è stato fondamentale, ha aggiunto il Presidente, per mantenere l'avvertenza su binari di reciproca collaborazione. Nel corso della riunione l'amministratore delegato della Portovesme SRL, l'ingegner Davide Garofalo, ha rappresentato nel dettaglio gli impatti che gli elevati costi dell'energia stanno determinando nelle produzioni degli stabilimenti di Portovesme e di San Gavino Monreale.